Buongiorno a tutti e benvenuti in questo secondo video della serie impara l'orienteering promosso dall'affiso la federazione italiana sport orientamento nel primo video avete visto una introduzione generale allo sport dell'orienteering e andremo in questo secondo video a parlare di una delle cose fondamentali per praticare l'orientamento appunto che è la mappa da orienteering e più in generale andremo a parlare anche di che cos'è appunto una mappa e come viene disegnata e quali simboli vengono utilizzati per disegnare per ottenere alla fine una mappa da orienting. Abbiamo già parzialmente risposto alla prima domanda con queste altre due nel senso che come viene disegnata vuol dire che questa mappa sarà un disegno, una rappresentazione meglio dire di una parte di territorio in generale possiamo dire. Quindi dipende da che cosa mi serve rappresentare, da dove voglio magari andare a utilizzarlo o che cosa voglio studiare e quindi mi serve magari rappresentare questo territorio con una particolare mappa. Qui negli esempi vedete una mappa del tesoro che sembra una cosa un po' giocosa ma in realtà è sempre una mappa perché si tratta di una rappresentazione di qualche cosa che poi mi servirà per muovermi sul territorio. Vediamo un'immagine un po' più stilizzata che rappresenta delle case e delle strade. Si vede una mappa di una zona un po' più grande, di una città intera, tratta da Google Maps, quindi anche da uno strumento digitale e un'altra rappresentazione, una mappa in questo esempio di Milano rappresentata in modo più dettagliato sicuramente rispetto a quella sopra di Helsinki. Quindi in generale una mappa è un disegno, un foglio di carta avrei detto prima della tecnologia digitale ma comunque una rappresentazione disegnata di una certa porzione di un territorio e che cosa disegna? Questo chiaramente dipende da che tipo di mappa abbiamo e da che cosa vuole rappresentare chi la produce per poi farla utilizzare a qualcun altro. Una mappa di Orienteering è una particolare carta topografica, un particolare tipo di mappa che ci mostra i dettagli importanti per la navigazione e la percorribilità del terreno. Questa definizione è sicuramente fondamentale per capire, e andremo a vederlo pian pianino insieme, per capire che cosa viene rappresentato e cosa no su una mappa di Orienteering. Questa mappa ha la caratteristica intanto primaria di essere molto dettagliata, quindi tutto quello che mi serve per appunto navigare, quindi sapermi e potermi muovere sul terreno viene rappresentato su questa mappa, quindi il dettaglio di quello che viene disegnato è molto molto alto. Come viene disegnata una mappa? Questo può valere un po' per tutte le mappe che conosciamo. La prima cosa di base è che questa mappa viene vista dall'alto. Questa cosa serve, ma l'avrete imparato a scuola, anche semplicemente disegnando magari la piantina della vostra classe o una mappa di qualche cosa, questa cosa serve per renderlo uniforme, nel senso che per tutti quelli che guardano questa mappa poi sanno da che punto di vista è stata presa. Chiaramente la vista dall'alto è quella che è stata scelta perché è migliore, ci permette di vedere più cose. Quindi devo immaginarmi o devo trovare, qui vedete un satellite nelle immagini, dovevo trovare un'immagine della zona che voglio rappresentare poi, per sommare una mappa, dovevo trovare un'immagine vista dall'alto. Utilizzo appunto satellite, foto aeree, quindi ci sono le carte tecniche che posso per esempio trovare verso gli uffici, eccetera, questo forse più per gli insegnanti che volessero disegnare una mappa. Una foto satellitare è la cosa più comune che posso reperire facilmente online. Quindi un'immagine dettagliata con buona risoluzione fatta dall'alto del terreno che voglio rappresentare. Questo disegno della mappa andrà poi trasformato in una rappresentazione disegnata in appunto quella che poi per noi è la mappa da orientini, ma questo discorso potrebbe valere per qualsiasi altra mappa che chiamiamo tale. Quindi in questo caso avete visto, ho sovrapposto una parte di disegno della mappa all'immagine, se torniamo indietro sparisce, vedete che se guardo la forma dei prati e dei boschi che intuisco esserci, vengono poi rappresentati con colori diversi. Qui avete già il risultato finale, ma andremo nei prossimi minuti passo passo a vedere come viene proprio rappresentata una mappa orientini. E' rappresentata che cosa vuol dire? Vuol dire che prendo quello che vedo dall'immagine, vedo prato, vedo bosco, vedo i tetti delle case, vedo quella struttura lì a sinistra che è un edificio molto più grande e devo capire, devo decidere o comunque devo poi trasformarla in un'immagine disegnata che rappresenti in modo chiaro, in modo che poi dovrà essere chiaramente standard perché deve essere chiaro per chiunque. Quindi chiunque vada a prendere in mano questa mappa deve essere in grado di capire che cosa si è disegnato per poi utilizzarla e muoversi sul terreno. Quindi abbiamo detto, vedrete perché appena vi presenterò appunto simboli e colori utilizzati nella mappa orientini, abbiamo detto che questa mappa orientini deve mostrare i dettagli importanti per la navigazione e la percorribilità del terreno. Cosa vuol dire percorribilità? Vuol dire che se devo attraversare un bosco, devo attraversare un prato, mi interessa sapere se riuscirò a farlo velocemente oppure no. Quindi nel caso del bosco voglio sapere se sarà pieno di rovi o se sarà un bellissimo bosco come questo della fotografia. Nel caso del prato mi interessa sapere se è un prato ben tenuto, se è un prato pieno di erbazze e rovi di nuovo. Quindi tutto quello che vado ad attraversare a me concorrente di una gara di orientini o di un percorso di orientini interessa sapere quanto velocemente potrò muovermi all'interno di questo terreno. Quindi la percorribilità è appunto il quanto bene o male posso percorrere queste zone. Quindi ci interessa sapere poi oltre chiaramente la velocità di percorrenza, che era questo che dicevo, la presenza o meno di oggetti, strutture, edifici, luoghi che posso o non posso attraversare. Se c'è un grande palazzo in mezzo vorrei saperlo perché non posso andare dritto, dovrò fare il giro da una parte o dall'altra. Ci interessa sapere se ci sono da una parte se c'è la strada o no, se devo attraversare il bosco o se ci basta seguire un sentiero, il livello della vegetazione che andrò a incontrare. Quindi tanti dettagli e tante cose da rappresentare. Per questo è stata diciamo selezionata, è diventato ormai come dire internazionale, un set di simboli e di colori che vengono utilizzati, in modo che se andrete a fare Orienteering anche dall'altra parte del mondo, riuscirete a comprendere come è fatta e come è stata disegnata la mappa, interpretarla e fare poi il vostro percorso da Orienteering appunto. I simboli della mappa sono poi utilizzati dal cartografo per tradurre, diciamo, la realtà nella lezione della mappa. Quindi c'è una scelta di simboli e colori e come dicevo, questa leggenda, che è la spiegazione dei simboli che vengono utilizzati, è standard in tutto il mondo. Questi qui vedete un esempio di una mappa di Orienteering, di un quartiere. Tante cose sono intuitive, diciamo, no? La forma degli edifici con questo grigio scuro mi sembra abbastanza intuitiva da comprendere. Le strade di quel color grigino, marrone, chiaro che passano in mezzo agli edifici sono semplici da intuire che è una strada, anche se non vi avessi mai detto che questa era una mappa di Orienteering. Il colore azzurro, ad esempio, rappresenterà, li vedete un po' nel centro a destra, ci saranno dei ruscelli, dei rigagnoli. Però poi gli altri colori sono un po' difficili da capire. Vediamo delle zone zalle, delle zone verdastre, degli oggetti, delle X, dei tondi, dei pallini. Che cosa sono tutti questi simboli? Se conosco un po' la leggenda standard della mappa Orienteering sarà facilissimo poi capire come questi sono disegnati e rappresentati. Qui vedete la mappa di prima, che vi ho fatto vedere con la foto aerea sotto. Anche qui vedete dei vari colori. Ci sono dei bianchi che poi diventano verdi, dei verdi più scuri. Ci sono delle macchie azzurre, dei pallini verdi, tutta una serie di un reticolo, di linee, che a prima acchietto, se lo guardo così, non necessariamente capisco tutto quello che è stato disegnato. Posso intuire tante cose, ma dobbiamo andare un po' a vedere un elenco dei simboli e dei colori che vengono utilizzati. Quindi i colori predominanti che avete visto sono questo bianco, giallo, verde. Che cosa vanno a rappresentare questi colori? Ora, il problema predominante, se guardo un ambiente naturale da sopra, è che vedo i prati e li vedo verdi, e vedo i boschi, vedo gli alberi da sopra e li vedo ancora verdi. E chiaramente il cartografo qui si è trovato di fronte a dover fare una scelta, perché non poteva disegnare tutto di verde, altrimenti qualcuno con poi in mano la mappa non avrebbe capito nulla del trovo prato o trovo bosco, come faccio a saperlo se è tutto disegnato in verde. Quindi è stata fatta una scelta e è stato deciso che questo bellissimo prato che nell'immagine vedete verde, verrà disegnato sulle mappe di Orienteering con il colore giallo, quindi verrà colorato di giallo. E voi direte, ma come mai il giallo? Appunto, come dicevamo prima per distinguerlo dal verde e quindi dal verde che poi sarà la vegetazione, lo vedremo tra un attimo. Quindi con il colore giallo sulla mappa Orienteering viene rappresentato il prato e le aree aperte. Con il colore bianco abbiamo deciso di rappresentare il bosco, il bosco è soltanto quello molto percorribile, molto bello. Perché? Perché poi il verde rappresenterà il fitto della vegetazione. Quindi ci sono varie sfumature di verde, le abbiamo viste prima nell'esempio e ne vedremo poi alla fine. Il bosco più fitto rappresenta le varie vegetazioni e il gioco è che più è scuro il verde, più la vegetazione sarà fitta. Quindi attenzione, più la corra è verde, più trovo vegetazione, diciamolo così. Funziona un po' come le cartine fisiche che avete conosciuto sicuramente a scuola. In quelle cartine lì, dunque le mappe lì, più il terreno era marrone, più la montagna era alta. A noi qui non interessa con il verde rappresentare la quota del territorio, ma interessa rappresentare, come dicevamo prima, la percorribilità. Quindi più il bosco è verde, meno sarà facile da percorrere, perché vuol dire che c'è più vegetazione in mezzo. Quindi un bosco come quello dell'immagine, pieno di, con rovi per terra, con dei rami molto fitti, verrà rappresentato con il colore verde, non più bianco. Chiaramente questo verde sì, diventa sempre più chiaro e quando diventa bianco è molto molto aperto e percorribile, però sempre bosco. E con il verde appunto vengono rappresentati anche alberi, cespugli, siepi, quindi tutto quello che è vegetazione, per cui mi immagino che l'albero da sopra lo vedo proprio come un pallino verde appunto. E con il blu, questo è semplice perché in qualsiasi mappa o quasi del mondo gli oggetti con acqua sono rappresentati in blu, quindi fontane, pozzi, idranti, ma soprattutto laghi, fiumi, ruscelli, rappresentati con il colore, con questo colore tra l'azzurro e il blu. E abbiamo visto prima una delle cose che erano facilmente intuibili, no? Il marrone chiaro, questo colore a metà tra il grigio e il marrone, rappresenta strade, piazze, aree pavimentate, quindi tutto ciò che è asfaltato o comunque piastrellato o piastrato, quindi tutto quello che è appunto pavimentato, viene rappresentato con questo colore marrone chiaro. Ci sono tanti oggetti e simboli neri. Con il colore nero vengono rappresentate due grosse categorie di oggetti, quelli costruiti dall'uomo, quindi per esempio un muretto con questa riga con il pallino, un recinto con la stessa riga nera, ma questa volta vedete con questo baffetto che rappresenta il disegno della recinzione, perché era necessario distinguere un muretto da un recinto e dall'alto difficile distinguere, non basta fare una riga nera per entrambi, quindi questo è già un simbolo che il cartografo ha creato per andare a riconoscere le varie oggetti. In questo caso la recinzione, nelle due righe che vedete nel simbolo, quella più grossa vuol dire che non è facilmente attraversabile, quella più sottile invece si può attraversare, per esempio un recinto al parco giochi che possono scavalcare e attraversare. Ancora con il nero degli oggetti particolari, panchine, giochi del parco, monumenti, statue, tutto quello che viene un po' costruito dall'uomo ma non rientrava nelle categorie di recinti e muri e case. Vengono anche disegnati non solo gli oggetti costruiti dall'uomo ma anche rocce e massi, quindi di solito i massi sono rappresentati, non è proprio una regola ma grandi, più di un metro diciamo, non è che i sassolini per terra vengono disegnati, dei grossi massi vengono rappresentati, delle rocce, dei gruppi di massi, delle zone particolarmente sassose, quindi tutto quello che è sasso e roccia viene rappresentato con il colore nero. Ci sono altri oggetti di terra che non sono sassosi, delle buche, dei copuzzoli, delle piccole colline, in questo caso viene usato il colore marrone per rappresentare gli oggetti di terra, quindi una buca di un paio di metri nel terreno verrà rappresentata con un simbolo di V o di U marrone. Una collina viene rappresentata con questa che si chiama curva di livello che è infatti un disegno dall'alto della forma della collina. Sulle curve di livello avremo modo di parlare in altri video successivi, ma giusto per dare un'idea di base di che cosa sono, sono un modo di rappresentare appunto le alture, le colline o le depressioni, quindi le buche nel terreno sulla carta in due dimensioni, perché disegnare una collina in 3D in due dimensioni è un'impresa difficile. I colori sono già utilizzati per la percorribilità e le colore di livello vanno a rappresentare in qualche modo l'altezza e la forma di queste colline appunto. Nel disegno vedete un esempio di quelle due colline che nella prima immagine vedete come normali, l'idea è quella di tra virgolette tagliarle a fette e farle diventare un disegno che poi rappresento, rappresentando la forma di queste fette dall'alto. Ma appunto avremo modo di approfondire, le cui livello meritano sicuramente un approfondimento a parte. Quindi tutti questi colori, tutti questi simboli per andare a alla fine ottenere una leggenda di questo tipo, che trovate anche facilmente online, che va a scrivere tutto, vuole essere comprensiva di tutti i simboli che abbiamo elencato. Io non ve li ho letti tutti uno per uno, ma se trovo un simbolo sulla carta, avendo in mano la leggenda, è possibile andare a capire che cos'è. Quindi se io vado a trovare un quadrato blu, lo cerco nella mia leggenda e vado a vedere, vedo che è un pozzo o una fontana, quindi so che quando troverò un quadrato vuoto blu sulla mia cartina, quando arrivo lì mi aspetto di trovare un oggetto con acqua, in questo caso proprio una fontana o un pozzo. Se trovo una linea nera con due pallini ancora neri, so che mi troverò di fronte un muro non attraversabile, e così via. Quindi conoscendo la leggenda potrete conoscere tutto quello che viene rappresentato sulla cartina, sulla mappa da Orienteering. Ecco, prima di concludere vi propongo un paio di quiz, un paio di domande per vedere se avete appreso qualche simbolo e colore della mappa da Orienteering. Ad esempio, una domanda potrebbe essere di che colori utilizziamo per rappresentare il prato e il bosco, quindi rispettivamente che colore ha disegnato il prato e di che colore ha disegnato il bosco sulla mappa da Orienteering. Tra queste possibilità la risposta corretta è la lettera C. Il prato viene disegnato con il colore giallo e il bosco con il colore bianco. Quale di queste mappe può rappresentare l'immagine? Altra domanda, che vedete lì sotto, quindi ci sono due alberi, una fontana e la panchina a sua destra. Quale di queste può essere una rappresentazione corretta? Tra questi tre oggetti, quattro oggetti, per rappresentare questa immagine la scelta migliore è quella dell'immagine B, quindi due pallini verdi per i due alberi, la fontana con il quadratino blu e la X nera, ma questa era uguale per tutte le opzioni, per rappresentare la panchina in quanto oggetto costruito dall'uomo. Quindi i vari colori per rappresentare oggetti diversi. Ricordate questo. Con questo noi abbiamo concluso e io vi ringrazio per l'attenzione. Questo è il secondo capitolo di Pondro Orienteering. Sul canale YouTube della Federazione Italiana Sport di Entramento potrete seguirci e scoprire gli altri video capitoli della serie. Grazie ancora a tutti e a presto!